Si intensificano i controlli per il rispetto delle norme anti-covid in tutta la provincia di Salerno. In campo per la verifica del Green Pass rafforzato, soprattutto i vigili urbani, mentre polizia ed esercito controllano le aree delle stazioni ferroviarie e dei pullman. Controlli che proseguiranno anche in serata per evitare assembramenti nei bar e negli istoranti per la notte di San Silvestro. Ci sarà la massima attenzione, ci saranno i controlli frequenti che ci sono già stati in questo tempo. Io vorrei fare un appello soprattutto ai giovani, camminando per Salerno e non solo per Salerno. Mi accorgo spesso che i giovani, parecchi giovani, fanno uno scarsissimo uso della mascherina anche in zone in cui ci sono assembramenti. E' necessario rispettare le regole. Il rispetto delle regole è elemento determinante per salvaguardare la salute di tutti. Appello condiviso dal sindaco di Salerno Enzo Napoli che parla anche delle misure di sicurezza legate a Lucidartista. Abbiamo predisposto un piano di sicurezza, quello che è servito per Lucidartista, che vige del tutto operativo, con Stuart Controlli. Ma la nostra Polizia Municipale sta facendo una serie di controlli e sanzionando chi non indossa la mascherina in modo corretto, chi scende dai pullman e viene verificato ed è trovato privo di gripass. Insomma stiamo tentando di dare una risposta in termini di persuasione ma anche di repressione laddove necessario.